L'hospice dell'ospedale maggiore di Cremona continua con le cure palliative. Se la situazione dovesse restare stabile non ci sarà necessità di ospitare pazienti covid. Se al contrario dovesse presentarsi nuovamente la situazione di marzo e aprile, quindi con una pressione sanitaria importante, ci sarà l'esigenza di ospitare pazienti covid limitando l'ingresso per le visite da parte dei parenti anche ai pazienti che in questo momento usufruiscono solo delle cure palliative. Le cure palliative ai pazienti in questo periodo sono un po' particolari, un po' snaturate nel senso che questo periodo impone cambiamenti di abitudine e in particolare la parziale riduzione dell'accesso ai parenti per la struttura, per motivi di sicurezza. Siamo passati da un hospice aperto nelle 24 ore ad un hospice con degli ingressi ovviamente controllati, previo tampone. Prima era tutto più aperto e quindi si riusciva a creare attorno al paziente sicuramente un clima decisamente diverso. Abbiamo messo in campo ovviamente tutto ciò che possiamo fare per rendere meno traumatico per paziente parenti questo periodo che di traumatico invece purtroppo ha molto. Ovviamente se ci dovessimo trovare in quella situazione e tutti ci stiamo augurando di no noi saremo pronti a fare la nostra parte se ovviamente con tutte le difficoltà il paziente covid deve per forza di cose essere più separato ovviamente dai propri affetti nonostante probabilmente riusciremo a garantire comunque delle visite molto brevi. Il paziente covid ovviamente non può avere delle 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 visite prolungate proprio perché la permanenza nelle stanze aumenta la possibilità di di contrarre la patologia. Grazie a tutti.